All'Assemblea Costituente sono elette anche 21 donne, 9 democristiane, 9 comuniste, 2 socialiste e una qualunquista. Nella commissione dei 75, che come tutti sanno formulò poi il progetto della Costituzione, c'era un gruppo di donne. C'ero io nella prima sottocommissione, ma vi erano anche altre donne, l'onorevole Gotelli, l'onorevole Federici e l'onorevole Teresa Nucce, che erano nella terza commissione. Per la prima volta la voce e la vita delle donne si sentiva nelle istituzioni. Quelle 21 meravigliose Costituenti, diverse tra di loro per storia e cultura politica, però tutte sapevano di essere lì per rappresentare e dare voce alle donne. Impariamo a dire che noi siamo un paese civile e abbiamo la Costituzione più bella del mondo perché questa Costituzione ha avuto dei padri e delle padri. Grazie a tutti.